Ciao a tutti. Io sono Woof. Il cane che può dire è quello che altri cani possono solo vedere. Oggi parliamo di toelettature. Quale toelettatura scegliere? Come riconoscere a colpo d'occhio una buona toelettatura? Di sicuro non dai diplomi apesi al muro. Questi si comprano. Nemmeno dai corsi fatti, questi si pagano. E nemmeno da varie onoreficenze, anche queste sono in vendita. Bisogna sapere che come nel mondo degli allevatori, ci sono alcune persone che ci sfruttano. Vedi il contrabbando dei cuccioli. Anche nel mondo delle toelettature esistono alcune persone che fanno questo lavoro toelettature, senza passione dimenticandosi dei nostri diritti. Persone che sono alla ricerca solo di soldi. Fortunatamente queste persone sono poche, ma bisogna distinguerle. Ovviamente le cose che vi dirò potete tranquillamente verificarle in internet. Allora cosa bisogna osservare? La toelettatura ovviamente deve essere ordinata e pulita. Ma la cosa che distingue maggiormente una toelettatura da un'altra è l'attrezzatura. Sì, bisogna osservare i phon soffiatori usati per l'asciugatura. Come tutti sapete l'acqua ed elettricità non vanno tanto d'accordo. Questo è un dato di fatto e soprattutto legato alla fisica del mondo. Nemmeno il famoso salvavita non sempre funziona in presenza di acqua. Proprio per questo motivo l'Europa ha fatto una normativa a riguardo per tutelare le persone. Chi rispetta queste norme può mettere il marchio CE sui propri prodotti. Se osserviamo qualsiasi phon per umani ci accorgiamo che ha la spina senza senza la presa a terra. Solo i due pioli metallici e nessun'altra parte metallica. Il simbolo di due quadrati concentrici uno dentro l'altro. Inoltre i phon sono in plastica e non metallici. E per questo hanno il marchio CE e tutto questo perché i phon possono essere usati in ambienti umidi come il bagno e quindi richiedono più sicurezza. Il pericolo a cui si va incontro è la folgorazione o elettrocuzione. Vi invito a informarvi su internet cosa vuol dire. Scoprirete che non si muore sempre carbonizzati e neri ma basta una piccola scossa per provocare infarto da folgorazione. Avete capito cosa serve perché un phon sia sicuro per gli umani? Materiale plastico, spina senza presa a terra, marchio doppio isolamento con due quadrati e 15e. Ma questa Europa cosciente del problema folgorazione del mix acqua ed elettricità ha pensato a noi pets. Nella norma ha evidenziato che noi come vostri fidati amici abbiamo gli stessi diritti di voi umani. Noi dobbiamo rischiare di fulminarci e voi no? Ti sembra giusto? Quello che vale per gli umani vale anche per noi. L'Europa cosa più giusta non poteva fare. Poi detto tra noi, il phon lo è in mano tu umano. Che asciughi la tua testa o il mio pelo il rischio è lo stesso. Inoltre la norma ha precisato che anche la digitura professionale deve rispondere alla legge degli umani. I phon definiti professionali devono avere sempre la stessa legge uguale agli umani. Invece molte toilettature hanno phon soffiatori con spina che non hanno tutte queste caratteristiche ma solo alcune. Questi phon soffiatori con spina se privi di doppio isolamento hanno il marchio CI regolare o corrispondente a Cina Export. Non sto parlando di phon cinesi anzi alcuni cinesi ci rispettano e sono a norme altri no. Ma anche molti phon soffiatori italiani, americani, francesi, spagnoli, venduti da Amazon o da Ebay, e venduti da rivenditori vari e. Ovviamente anche tedeschi. Molte volte questi phon non a norme sono anche costosi. Ahimè molti toilettatori usano prodotti non a norme. Con marchio CI regolare. Esponendoci al rischio folgorazione. Dogskets.com. Brand di Rx1.com. Sistemi di asciugatura altamente professionali per toilettature. Motori esterni. O in altra stanza. Per un miglior ambiente lavorativo. Per voi e i vostri clienti. E vi assicuro che non è il massimo stare in queste toilettature. Per capire meglio facciamo un esempio. Andiamo su Google. Immagine. Ed citiamo sala lavaggio toilettatura. Scegliamo una foto. E osserviamo la prima sembra un phon metallico con spina. Un secondo phon con spina anche questo metallico. Ne ha un secondo a terra rosso sembra sempre metallico con spina. Un quarto metallico sempre con spina. Molto probabilmente questi soffiatori sono privi del marchio con il doppio quadrato essendo metallici. Molto probabilmente avranno la spina compresa a terra. Quindi per prudenza è una toilettatura da evitare. Si può sempre chiedere informazioni alla titolare per prendere la decisione definitiva. Questo lavaggio invece ha un phon con spina in plastica e molto probabilmente in regola. Qui invece un lavaggio con soffiatore che mi auguro che sia privo di spina e quindi in regola ma. Ma. Sembra che abbia anche l aspiratore. L'aspiratore se senza il simbolo dei due quadrati è sempre fuori regola che abbia la spina o senza. Non sarà il caso in foto ma si può domandare al titolare se l'aspiratore ha il simbolo dei due quadrati. Visto che anche la stessa vasca è metallica. Ecco qui un'applicazione intelligente la preferita di noi cani. Una postazione con i motori in altra stanza con poco rumore, senza i fastidiosi campi elettromagnetici. E soprattutto aria pulita sul nostro pelo. Devi sapere che i phon all'interno della toilettatura ci gettano aria umida e sporca dal pelo vagante sul nostro manto appena lavato. Ma bisogna avere un cervello canino per capire queste semplici cose? Io che sono un semplice cane capisco che questa è la soluzione migliore. Ma che toilettatori ci sono in giro. Pazzesco i cani a volte capiscono di più di certi toilettatori magari autoeletti a maestri toilettatura. Un'altra cosa importante che bisogna osservare per preferire una toilettatore è se utilizza l'aspirazione per eliminare l'acqua dal pelo. Questo oggetto è molto utile perché oltre ad eliminare l'acqua elimina i residui di shampoo che possono rimanere tra le squame del pelo. Inoltre lascia un ambiente più igienico perché assorbe anche i peli morti che altrimenti verrebbero sparati nell'ambiente sporcandolo. Attenti che alcuni invece di utilizzare apparecchi progettati per l'uso su noi cani e per non stressare il nostro pelo utilizzano aspirapolveri industriali pensando che un tappeto o un pavimento di un'officina sia uguale al nostro manto. Anche questo è un assegno negativo per scegliere la toilettatura. Inoltre molti di questi aspiratori sono privi del marchio dei due quadrati e questo è pericolosissimo. Qui la legge europea è ancora più chiara e lo dice chiaramente che apparecchi per l'aspirazione devono avere il doppio isolamento. Se avete dubbi chiedete al toilettatore che vi faccia vedere il simbolo dei due quadrati. Se in regola sarà felice di accontentarvi. Un'ultima cosa che è solo questione di buon senso e di gusto. Tanti lavaggi sono in acciao inox. Sicuramente igienici ma nel caso sfortunato di un piccolo incidente elettrico conducono corrente. Quindi è sempre meglio preferire una toilettatura con arredamento e vasche in materiali plastici come HPL perché igienico al pari dell'inox ma non conduce elettricità quindi più sicura. Quindi attenzione che anche nel mondo della toilettatura esistono i furbetti che sfruttano il fatto che i loro clienti non possono parlare. Molte volte sono persone che si danno un sacco di aria e se possono si fregiano di qualsiasi onoreficenza, del tipo maestro eccetera persone che con il loro comportamento fanno anche concorrenza sleale a tutti quei toilettatori che sono riusciti a trasformare la loro. Passione in un lavoro, toilettatori che ci rispettano e che sono coscienti che acqua ed elettricità sono un pericolo. Questi sono la maggioranza. Saluti da UF e vi do appuntamento ai prossimi consigli.